La lite tra Fedez e Luis Sall è un argomento che sta facendo discutere da settimane. Sebbene non siano chiari i motivi del loro allontanamento, sembra che i problemi economici possano essere stati la causa scatenante. Non è la prima volta che Fedez si allontana da un amico o collega a causa di questioni finanziarie, le liti con Giax e Rovazzi sono stati altri episodi simili. Nel 2018, infatti, i due rapper hanno interrotto la loro collaborazione in modo poco chiaro. Solo successivamente si è saputo che la rottura era dovuta al fatto che Rovazzi aveva lasciato la Newtopia, l'etichetta fondata da Giax e Fedez, per mettersi in proprio. Inoltre, Fedez non ha perdonato il collega per non essere stato presente durante la sua difficile gravidanza insieme alla moglie Chiara Ferragni. Anche l'allontanamento da Giax ha seguito una dinamica simile. Durante la gravidanza di Chiara, il rapper si sentiva debole e lontano dalla sua famiglia e dal lavoro, il che ha causato problemi nell'amicizia tra i due. In questo caso, è stato un collaboratore a minare l'amicizia a tre. Dopo questi precedenti, non sorprende che l'allontanamento di Fedez da Louis Sal sia stato causato da problemi economici. Tuttavia, non sono noti i dettagli esatti di questa situazione. La loro rottura ha portato all'eliminazione di Louis Sal dal podcast Muschio Selvaggio e alla sua scomparsa dai social network. Questo è un altro esempio di come i problemi finanziari possono minare le amicizie e le collaborazioni nel mondo dello spettacolo. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.